Merilli, materiale tecnologico contraffatto, polizia locale confisca oltre 250 prodotti, denunciato commerciante. Risulterebbero oltre 250 prodotti tecnologici presumibilmente contraffatti, sequestrati dalla polizia locale del comune di Merilli, a seguito di controlli effettuati in attività commerciale del territorio, nello specifico i caschi bianchi. Durante un'ispezione e in un esercizio commerciale hanno deferito all'autorità giudiziaria il gestore di nazionalità cinese per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni, e per vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Tengo particolarmente a fare un plauso al corpo di polizia locale della terrazza degli Iblei per la costante attenzione al territorio e l'impegno a 360 gradi, le parole dell'assessore alla polizia locale Flora Incontro, che conclude asserendo che quello avvenuto sembrerebbe uno dei primi sequestri in Italia di materiale tecnologico contraffatto. riconducibile al colosso della Mela Morsicata. Soddisfatto il sindaco di Menilli, Carta, che afferma con orgoglio che questa amministrazione si è spesa fin dal primo giorno per creare un corpo di polizia locale in grado di occuparsi di molteplici materie, donando ai cittadini menillesi un servizio e un senso di sicurezza di primo ordine all'avanguardia. Grazie. 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 Grazie.